la vai da bravo, vai da bravo butto giù pure a, no ti butto giù vieni, vieni ti ho detto che questa è la mia mappa ormai vinco Danio, buttati giù due è la mia mappa non mollo nulla non mollo, capito? sei bruttissimo con il baffino lo so e ragazzi, come va? io sono Feriniki e io sono Steph e qui se oggi torniamo su una coppia a tante sfide ebbene sì, siamo tornati ci abbiamo messo un pochettino di tempo perché volevamo anche registrare la battle flip challenge come avevamo promesso ma purtroppo in questo periodo siamo senza videocamera quindi abbiamo deciso di registrare normalmente e siamo su gang beast e mi stai buttando in mezzo a un treno aiuto, scappo eccoci si inizia oh mamma mia, ma io soffro i vertigini ma lasciatemi in pace ma il tuo sta correndo dritto cercando di cadere anche lui, sì vero? che? no, non dovrebbe andare così tecnicamente ci dovremmo muovere lo so perché siamo fermi? è flippatissimo ho vinto non so come ma ho vinto allora qui stai già barando? barando? sì, stai già barando perché hai citato ma non hai visto come muovevo il bacino per non cadere? muovi il bacino ero bravissimo mi muovevo non rischiavo di cadere no è un bug stranissimo non l'ho capito ti giuro che io sto giocato un po' non mi era mai capitato una cosa del genere quindi non mi lascio spiegare allora io direi di fare siamo a casa mia di fare una cosa dimmi facciamo fuori l'estraneo e poi ci sfidiamo noi ok allora prendiamolo vieni qua lasciami in pace vieni qua vieni qua mamma mia mi state facendo rabbia adesso lo faccio sul serio no 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 non cadere cadi no no cadi aiuto che paura era lì lì per cadere aiuto buttalo buttalo aiutami dai che ci stai riuscendo aiutami a buttarlo fuori accidenti a lui sto cercando di capire e vattene ecco qua ce l'ho buttato di sotto ho capito me gli tassi vieni qua no no allora vieni un attimo vieni tu ti faccio vedere un giochino e butto pure a cazzo è fuori allora tu non hai capito che il ring è il mio territorio naturale io ci sono nata nel ring ma se sei vestita da pollo buttati di su no no aiuti no 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 salta salta ci devi a te pollo imbranato che non sei altro ok vai io contro il giallo vai 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 dentro no dentro no buttalo buttalo no 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 fai vincere centro che non c'entra nulla con noi lo fai vincere però ovviamente tra di noi hai vinto tu perché sei durato più di me ok ok non riesco neanche a tenere il punteggio perché questa per me è una rissa da strada potentissima guarda ti prego e non ti posso prendere mi occhiappato non mi molla no no vai giù tu ma sono salvo ma tu sei quella salvo aiuto sei morto si puttati di so polletto polletto ascoltami sto facendo un video in più sono un polletto rosa quindi fammi vincere vai no 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 allora no cambia poterci attento no ti ha fregato guarda le tutte le folle cadono dopo un po' ma davvero si e come per capire quale cade ah non lo so uno dei due cade però penso quello che si sta per staccare io nel dubbio vado dall'altro no no vinci tu yeah grazie grazie io volevo fare il furbo che ne va dall'altro lato è difficile però è stato cascato come un pesce uno è uscito siamo rimasti in tre perché l'ho umiliato l'altro gli ho dato una gomitata ed è volato di sotto proprio spettacolo spettacolo ok il ring siamo a casa mia allora no tu ci perdi qua non è casa tua mi dispiace giallo oh che mossa mi stai facendo le mosse di wrestling guarda spam allora allora spam io mi butto a pesce per terra e mi aggrappo allora tu giallo mi stai dando fastidio allora vieni qua vai vieni qua spingilo vieni qua adesso butta giù a te no lasciami disgraziato come ti sei permesso uh no ma no mi sono autobuttato sbagliato vabbè capita perché si muove tutto con lo stra gelatinoso come faccio a buttarlo giù quando lo stendo eh devi prenderlo lo devi prendere con r1 r1 l1 e poi lo tiri con cerchio ah vedi io usavo solo r1 no li devi prendere tutti perché uno muove un braccio io lo tiro con cerchio ah io riesco a tirarli con cerchio oppure saltando anche tu però devi stare attento a non cadere sono molto strani i tasti oppure lo spingi lo puoi anche spingere fuori dannazione quindi lo stendo costantemente ma poi non riesco a buttarlo no cioè questo qua sarà felicissimo che gli diamo tutte queste vittorie non fa nulla prende solo colpi e vince sempre è una cosa incredibile rissa vieni qua vieni qua a picchiarmi prendo te guardami la più bella sono le testate guardami sto già insultando perché questa qua è la mia vittoria infatti guarda come scrivo le tue testate guarda come le prendi in pieno mi manchi sempre e staccati e staccati vieni qua vieni qua ti ammazza vieni qua ti ho risteso? non lo so si andiamo andiamo vai no non è giusto eravamo tutti e due giù non è giusto no no allora allora eravamo tutti e due giù ti avevo buttato come hai fatto ad aggrapparti hashtag vittoria più bella come hai fatto? senza dubbio come hai fatto? perché ti ho preso ti ho lanciato e mi sono reaggappato io ho capito ti ho lanciato ero sicura sicura che cadessi prima tu e invece mi hai fregato ti ho mostrato che nel wrestling vinco io mamma mia sono disgraziato vieni qua vieni qua vieni qua fammi vedere che dovevi fare no 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 oh lasciami in pace stai giù ok no no non diciamo fesseria non diciamo fesseria mi ho steso non diciamo fesseria devo allenarmi dare i pugni dai aspetta che sono fortissima dare i pugni vieni bella mi hai dato una testata lì indietro ci stavo portando come e tu sei bravo dare i pugni io sono la regina delle testate ti giuro voglio il replay di questa scena perché è fantastico non è possibile oh mamma mia lasciami stare allora ti devo spiegare come funziona da queste parti io sono stefan magnifico e vinco sempre nel wrestling vieni mi sa che invece sto vincendo io mi dispiace per te il wrestling vinco io vieni qua vieni qua tu vinci sempre nei treni perché io non so saltare eh ti punto giù ti piacciono i miei pugni ti piace ok no 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 allora risvegliati come fate alzati tornazione porca miseria è tanto inutile ti stendo ma non ti so buttare giù eh vabbè è difficile no 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 yes aspetta è proprio morto è proprio morto pace no bravissima bravissima no 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 mi dà la vittoria no sto resistendo ok bravo dai non so come aiutami signora mi aiuti eccomi eccomi ok ok adesso si fa sul serio adesso si fa sul serio chi è che mi voleva dare una testata io ti do le testate come ti permetti eh come ti permetti lo sai chi è il boss della mappa eh vieni qua vieni qua non tu vieni qua sempre perso mi è steso ti butto mamma mamma ma no 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 che so peggio di quella che hai fatto tu prima questa era in contemporanea questa era totalmente in contemporanea la mia io poi non sono morto sono rimasto aggrappato quindi la mia era epica questa qua è tutta fortuna di nuovo allora allora io voglio riuscire oh saltare ce l'ho fatta ce l'ho fatta finalmente io mi prendo il sole mi posiziono meglio guardami come sto prendendo posizione guardami oh no oh no fuori cati oh no non ci sto non ci sto ti prego oh siamo abbracciati che carini guardaci io sto sperando di non morire ok rissa rissa no io sono aggrappato al furgo non è possibile mi sono aggrappato alla mira ciao quanti siamo adesso io sono io sono cambiato sono questa rosa io penso di essere celeste no durerà all'infinita guardalo è svenuto malissimo due volte acchiappalo buttalo acchiappalo forse non lo sa fare ma dove stai andando ok fantastico questo è il pugno che c'è staccato sembrava il pugno di dragon ball vabbè vabbè fantastico bellissimo il gatto guarda ha dato spettacolo questo pugno non lo dimenticherò mai entra nel mio cuore e ci rimane per sempre forza forza mi voglio redimere è che siamo troppi quindi adesso eh ma quello è il bello è più e lo so però diventa più sopravvivenuto allora sono quello celeste quello celeste ok io sono quello rosa con i baffi ciao dove sei eccoti vieni qua ti sto picchiando malissimo ah ma sei questo allora sei bash non sei rosa eh vabbè e mi dici rosa e scusami sono bash ciao ma mi immogli per favore no ti ho steso sì no non mi butà non mi buttare brutto perché sono sceso dai non facciamo vincere questo non facciamo vincere questo qua però non è giusto abbiamo fatto vincere questi no morto siamo nella mia mappa devo combinare qualcosa di bello adesso mamma mia mollami eh non provare ad acchiapparmi allora cerchiamo di far fuori gli altri due e poi ce la contendiamo esatto sto cercando di buttare il dino giù ok perché è quello che vince sempre quindi ok hai ragione mi sembra un buon ragionamento fai di sotto vai via 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 è difficilissimo buttarli di sotto eh te lo dico aia salvami salvami ok ok ma sto picchiando il dino è una testa mi sembra vai vai vuole buttato giù buttato giù dammi una mano buttiamo anche questo no mi hai steso vabbè l'importante è che se uno dei due viene steso l'altro lo difende vai adesso bravissima a buttarli tutti giù ma va guardami ma io non vorrei che quello sia vivo oh no 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 adesso butto giù pure a te lasciami la fai da bravo butto giù pure a te fai da bravo butto giù pure a te no ti butto giù no vieni vieni mi devi lasciare in poche vieni ti ho detto che questa è la mia mappa ormai vinco Daniel buttati giù due è la mia mappa è la mia mappa eh 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 non mollo nulla non mollo capito sei bruttissimo lo so e la mia mappa mi devi lasciare mi devi lasciare in pace buttati non mi prendere la mia rabbia ti devo stendere ti devo stendere oh ci stiamo stendesi entrambi ah ok no svegliati svegliati eccomi eccomi lasciami in pace è la risa l'ultimo sangue capito no 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 svegliati svegliati non puoi buttalo donnazione testate donnazione non ho ancora imparato la lezione questo galletto d'oro vallami vai giù ci riesce a te ma non fa buttare no 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 dai dai brutto no 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 vai di sotto hai capito mi devi lasciare mi devi lasciare vai di sotto allora allora mi stai facendo arrabbiare ti ho preso solo con una mano dannazione ma l'hai testata no ok ti ho disteso ce la posso fare ce la posso fare è il mio momento vola no ok no riprenditi no quanto pesi dai dai non si riprende non si riprende ok alla vecchia maniera si è stata bellissima questa battaglia è stata bellissima sono voluto buttare fuori tutti è stata la più bella in assoluto la più bella aveva più valore perché dopo che ne butti giù un po' prende più valore uno contro uno no ti ha steso no 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 non posso perdere salvattela no non posso reagire non potevo reagire peccato però è stata bella combattuta una bellissima battaglia la battaglia col dinamo mi ha stancato davvero tanto eh l'ho notata l'ho notata questo qua questo rossa mi ha steso tipo otto volte anche a me c'ero sempre svenuta però almeno l'ho battuto perché sono riuscita poi a buttarlo dall'altra parte bravissima ho molto soddisfatta eh ma non resisto voglio fare anche questa scusami eh e dai l'ultimo l'ultimo per davvero allora facciamo questo qua ci ha preso in due e mo ci butta giù entrambi guarda eh io sto vai di sotto perfetto brutto distraziato ok buttiamolo butti sei solo? ok uno è volato dove sei? che fai? sono dall'altra parte mi ho tolto il ponte e sto esultando allora tieni ti mando ti mando questa cosa vai vai ce la puoi fare vai giù ci credo ci credo ci credo ci credo io so che puoi vincere io so che ok no grazie grazie però vedi ho tolto il ponte quello l'ho fatto io e sto rimasto di fermo comunque ragazzi ci fermiamo così per questo video speriamo tantissimo che vi sia piaciuto se il video va molto bene fa tanti likes di sicuro riportiamo King Beast è fantastico è fantastico non ci sono parole mi lasciano mentre buttare giù guarda mi aspettavo di divertirmi con questo gioco ma non così tanto è stato piacevolissimo divertente in due divertente in quattro divertente in sei è davvero divertente un po' con tutti i numeri sono felicissima di aver fatto questo video e non so bene chi ha vinto ma secondo me tu secondo me questa sfida eh non lo so dovremmo contare dovremmo contare i consolini daranno la conferma ma credo che tu hai vinto uno o due round in più comunque posizioni migliori di me e quindi brava poi comunque è diventata la più prova di me a buttare giù quello lo devo ammettere da quando ho imparato a buttare giù le persone un talento io mi sono innamorata di sto gioco ti dà una soddisfazione incredibile prenderlo e fare e tu hai vinto bellissimo spera che ci riesco a dire sul tuo gioco se ci ci mi like questa è la prima volta che vi ho detto il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi ciao e alla prossima ciao ciao ciao